Buongiorno a tutti, oggi siamo lieti di illustrarvi le due soluzioni prospettate dal famoso investigatore Archiu Poirot nel libro Assassino sull'Oriente Express, mettendola a confronto con quelle prospettate nell'omonimo film. La prima soluzione è coerente con tutte le deposizioni di passeggeri, sostenendo che a Belgrado o a Vinkovci si è salito un uomo fornito di passepartout che gli ha consentito di entrare nello scompartimento di Ratchet pugnalandolo fino alla morte, per poi scendere poco prima che il treno ripartisse, passando davanti allo scompartimento della signora Hubbard. Nessun passeggero perciò era stato incolpato. La seconda soluzione, contrariamente alla prima, contrasta tutte le deposizioni dei passeggeri, ma conferma tutti gli indizi e le scoperte riguardanti il caso Armstrong compiute da Poirot. Emanando questa possibilità, l'investigatore enuncia che tutti sono colpevoli e complici, compreso il controllore di vagoni letto, Pierre Michael. Qui troviamo un'affermazione molto importante presentata da Monsieur Book. È vero infatti che negli anni 30, solo in America si trovavano persone di così tante nazionalità in una sola casa. Un caso incredibile, Poirot trova improbabile il fatto che siano tutti colpevoli. Eppure... Per organizzare un delitto così complicato su un treno serviva sicuramente anche la complicità di un controllore, ma se i colpevoli erano 12, un passeggero doveva per forza essere innocente. Questa persona era la Contessa Andreni. Nel film, prima di annunciare le due soluzioni, Poirot deporò una pistola sul bancone in cui erano seduti tutti i passeggeri, mentre nel libro non viene citata alcuna arma. Nel libro i passeggeri si dispongono nel vagone ristorante, nel film invece al di fuori del treno. Il film termina con un fantastico panorama su Broad, mentre invece il libro termina semplicemente con l'abbandono del caso e con la consegna della soluzione alla polizia jugoslava. Il film termina semplicemente con l'abbandono del caso e con l'abbandono del caso e con l'abbandono del caso e con l'abbandono del caso. Il film termina semplicemente con l'abbandono del caso e con l'abbandono del caso e con l'abbandono del caso e con l'abbandono del caso.